Percepisco un pochino poco rispetto per questa maglia, per questi colori, per questi tifosi, poi l'ho detto magari mi cacciano, mi espadriano, però io sono fatto così, ma lo percepisco per quello che vedo, per quello che sento. L'episodio di oggi credo che sia un po' il non plus ultra di quello che ci è accaduto da quella partita con la Juventus, poi penso che sulla palla di Ranocchia c'è un po' la fotografia del nostro momento, questa è la mia analisi, non ho mai parlato, scrivetelo perché non ho mai parlato né di dietrologia né di disegno, dico solo che sono degli episodi che decidono le partite e penso che se Zanetti e Samuel ti dicono che sono cose strane che vedono, noi siamo stati 5 minuti a capire cosa avesse fischiato l'arbitro, pensavamo il contatto fra Ranocchia e Livaia. Non sto dicendo che c'è un disegno o qualcosa, sto dicendo che l'arbitro ha fischiato qualcosa che non c'era, ma no non c'era un errore, il fallo di Cassano con Chiellini, io lo vedo rigore, tu non lo vedi rigore, però si sono toccati, questo qua ha fischiato qualcosa che le due squadre, 22 calciatori in campo non hanno percepito esistere e io quindi dico si è preso una responsabilità visiva pesantissima su quell'area di rigore.